Ben trovati amici del Centromato Italiano, weekend ancora caratterizzato da locali acquazzoni e temporali sull'Italia con fenomeni soprattutto di stampo pomeridiano. Vediamo quindi in dettaglio le previsioni per sabato 19 maggio. Al mattino isolati i rovesci inizieranno ad interessare le alpi centro-orientali, ma sarà dal pomeriggio che l'instabilità farà parlare di sé grazie ad acquazzoni e temporali che dall'arco alpino si diffonderanno anche alle pianure settentrionali. Non mancheranno locali fenomeni anche sugli appennini centrali, mentre rimarrà piaciuto al sud, seppur con molte nubi e sulle coste. In serata il nord Italia continuerà a venire bagnato da piogge e rovesci, così come in nottata, con fenomeni soprattutto sui settori nord-occidentali. Per quello che riguarda le temperature, minime e massime non subiranno variazioni o tenderanno ad aumentare leggermente. Per ulteriori dettagli sulle previsioni, non dimenticate di visitare il nostro sito oppure di scaricare gratuitamente la nostra app Meteo. Buon weekend da parte del Centro Medio Italiano!